Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale, dunque da una settimana è nel distribuzione ci ha appeso questi cartelli, questi avvisi diciamo in tutto il paese per avvisarci che mancherà l'attenzione martedì 18 giugno dalle 9 alle 16 ragazzi davvero praticamente tutta la giornata, sono tantissime ore, soprattutto ragazzi per chi rimane in casa, per chi deve diciamo fare qualcosa in casa, ad esempio lavatrice, lavastoviglie, caricarsi l'auto elettrica tutte queste cose ragazzi è davvero un problema, è davvero un grosso problema perché tante sono le ore e ovviamente tanti saranno i disagi, però ovviamente ragazzi i lavori vanno fatti quindi ovviamente io non do nessuna colpa a ridistribuzione, l'importante ovviamente è rispettare questi orari perché in varie occasioni hanno detto che ripristinavano il collegamento elettrico alle 16, invece ragazzi anche verso le 22, le 23 l'energia elettrica non era ancora tornata e casa mia era il buio. Il vantaggio ragazzi di avere i nostri impianti a isola fai da te è che proprio essendo a isola noi ci stacchiamo proprio dalla rete elettrica anche se in tanti non la pensano così, ma ragazzi quale occasione migliore per farvi vedere gli effetti dei nostri impianti a isola, gli effetti positivi perché ovviamente oltre al risparmio ragazzi il vantaggio è questo, che questi sistemi a isola ci danno diciamo la possibilità di un backup continuo durante tutta la giornata. Questo ragazzi è positivo, va bene, è una figata però 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 ci sono delle cose da dire, ok? Ci sono delle cose importanti da dire perché sì è vero abbiamo la corrente durante tutta la giornata ma se la giornata è nuvolosa che cosa facciamo? Ecco, se le batterie non sono cariche, non riesce a caricare magari dobbiamo fare esempio una lavatrice o una lavastoviglie cosa facciamo? Ecco, rimaniamo fregati. Dunque oggi in questo video vi farò vedere un paio diciamo, ma non sono neanche regole, diciamo che è il buonsenso che mi ha spinto a fare questo video, un paio di informazioni diciamo per chi magari si sta approcciando adesso al mondo del fotovoltaico a isola e magari si trova nella mia stessa situazione. Ovviamente ragazzi io sono super alimentato, vedete manca Enel, manca Enel quindi si sa già che è qua corrente, ne mancherà tutto il giorno però come vedete io sono sereno e tranquillo perché ovviamente ragazzi mi sono organizzato nonostante oggi diciamo le nuvole ogni tanto vanno e vengono però ragazzi sono le 9 del mattino comunque siamo già in una produzione un po' soddisfacente, siamo a 428 watt abbiamo sull'altra stringa 211 quindi ragazzi abbiamo quasi 700 watt in totale e casa mia ne sta assorbendo 200 quindi diciamo che per ora sono sereno ma sono sereno perché ragazzi perché ovviamente ho l'oro, ho questi bestioni che ovviamente non li sto caricando adesso ma sono già belli pimpanti da ieri va bene? Oltre a questo ragazzi ci sono delle piccole accortezze tipo questo cartello ma vi spiego tutto dettagliatamente prima di iniziare ragazzi come al solito vi ricordo l'iscrizione al canale cortesemente aiutatemi a crescere perché come vedete io faccio video che interessano a tutti, il 70% di voi guarda costantemente i miei video ma ahimè ancora non è iscritto al canale, ragazzi io non chiedo soldi, non chiedo donazioni, non chiedo nulla di tutto questo, l'unica cosa che chiedo è l'iscrizione al canale per continuare a fare di questi e altri video che interessano a tutti, grazie per chi si è iscritto e grazie per chi si iscriverà. Dunque ragazzi iniziamo dall'alto Allora come vedete se io ovviamente attacco Enel o stacco Enel ragazzi qua non succede nulla Sono le 9 e 10 minuti e ovviamente l'Enel è stata super puntuale come c'è scritto in questo avviso di interruzione elettrica, ragazzi dalle 9 alle 16 dobbiamo fare dei lavori e vi devo staccare la corrente, giustissimo ragazzi ci mancherebbe altro, i lavori vanno eseguiti e purtroppo sotto tensione non fa lavorare. Quindi la prima cosa che io vi consiglio di fare ma non tanto per salvaguardare il vostro inverter ma soprattutto per salvaguardare ovviamente chi lavora nella linea elettrica dell'Enel, ossia ragazzi a monte di tutto questo di casa vostra, dell'inverter, insomma di tutto quello che appartiene all'utenza Ok, allora ovviamente ragazzi questi inverter sono off-grid quindi è impossibile che torni corrente a ritroso, però esempio in questo caso che abbiamo un off-grid ibrido che se viene programmato in una determinata maniera può diventare anche un on-grid, in quel caso ragazzi se viene programmato male o se c'è qualche tipo di malfunzionamento, nell'ipotesi proprio più remote, più estrema, ma ragazzi stiamo parlando di una cosa quasi impossibile, potrebbe tornare energia elettrica a ritroso. Ok, però ragazzi il buonsenso mi porta, anzi mi ha spinto a dirvi questo e a fare diciamo questa piccola procedura che ripeto, molto semplice, due minuti e siete a posto. Prima di tutto dovete staccare ovviamente il contatore Enel, ok? Seconda cosa ragazzi, sia nel contatore Enel sia nel termico principale, nel sezionatore principale, quindi nel vostro ingresso Enel, ragazzi voi dovete applicare questa piccola etichetta, ok? Questo piccolo diciamo stemma che ovviamente si può scaricare da internet e si può applicare benissimo diciamo da qualsiasi parte, ma io ovviamente lo metto qua, poi una volta chiuso qua non tocca niente nessuno, ragazzi perché prima di tutto così siamo sezionati fisicamente dalla rete, ok? Sia qua sia nel contatore di casa ragazzi siamo sezionati fisicamente, qualsiasi cosa succeda non sarà possibile che torni energia elettrica dal nostro impianto alla linea elettrica, quindi dal punto di vista della sicurezza siamo oltre pure la C021. Per quanto riguarda la salvaguardia del nostro inverter ragazzi, assolutamente questa cosa da fare, perché? Perché durante queste ore in cui manca l'energia elettrica può succedere che ovviamente la corrente venga attivata, venga riattivata, ma il problema è che noi non sappiamo con quale tensione, perché ragazzi soprattutto quando si fanno lavori in questa linea elettrica ovviamente si fanno delle prove, si fanno delle verifiche e magari l'ener ci può sparare ad esempio 300 volt o chi all'improvviso e ovviamente 300 volt il nostro inverter lo brucierebbe, o che non costa niente perché sappiamo già che dalle 9 alle 16 siamo condannati a rimanere senza corrente, quindi ovviamente ragazzi cosa ci costa staccare questo interruttore? Non ci costa assolutamente niente, ma questa regola ragazzi, questa piccola diciamo dritta va bene ovviamente per noi che abbiamo questi inverter costosi che si rompono un problema, ma ragazzi va bene anche per chi non ha il fotovoltaico, perché rimanere costantemente attaccati a una linea dove si stanno svolgendo dei lavori elettrici, ragazzi è pericoloso, è pericoloso per le apparecchiature in casa, perché ripeto, non sappiamo cosa succede, non sappiamo a che tensione loro stanno lavorando, magari possono attaccare un minuto, possono staccare, poi possono riattaccarla, magari a 300 volt, magari a 150, ragazzi può succedere benissimo questo, quindi noi se abbiamo apparecchiature sensibili in casa, ragazzi queste ultime si bruciano, è già successo, è succedere ancora, quindi io il mio consiglio, il mio ovviamente modesto consiglio e umile consiglio è questo, quando ci sono questi lavori e vi stanno avvisando ragazzi per tempo, perché questo avviso c'è da circa 20 giorni appeso di fronte a casa, ragazzi staccatevi il giorno che succede questo, staccatevi fisicamente dalla rete, staccate Enel e staccate ovviamente il salvavita principale, io ovviamente in questo caso il salvavita principale ce l'ho dentro casa, io sto staccando sia il magneto termico, quindi il sezionatore principale dell'impianto, sia ovviamente il contattore Enel di casa, applicando ragazzi queste due diciamo etichette, una qua e una nel contattore Enel, in modo che nessuno ci metta le mani, perché c'è scritto le manovre, si lavora sulla linea, quindi ovviamente ragazzi chi legge questo cartello, a meno che non è un deficiente, ovviamente qua non entra e ci mette le mani, nel mio caso ragazzi ovviamente io in casa ci metto solo io le mani, però può succedere che in casa vostra ci sia qualcun altro che vedendo il contattore basso, magari, magari non vedendo energia in casa, cosa può pensare? Vabbè allora riattacco la corrente, sicuramente è scattato salvavita, può succedere che magari in quel momento stanno lavorando nella rete elettrica e succede il patatrack, quindi ragazzi, sezionatore ovviamente a zero per sicurezza, questo piccolo diciamo, questo piccolo cartello si può scaricare da Google, basta solamente stamparla a colori, ragazzi si applica con un pezzo di fili ferro, una piccola fascetta e lo si tiene così fermo, in modo che nessuno ci metta le mani. Ragazzi questa ovviamente è buonsenso ma anche sicurezza, date il rete a me, io ho visto in altri casi come questi dove ci sono, per quando manca per così tante ore l'energia elettrica, vuol dire che sono la facendo lavori grossi, quindi è meglio, è meglio staccarci dalla rete elettrica, poi alle 16, alle 16 e 20, 16 e 30 ovviamente eramo il sezionatore, riattachiamo il contattore Enel e vediamo se c'è ancora energia e ovviamente se è attenzione giusta, che è la cosa che ci interessa di più, che deve essere 2,20, 2,30 ragazzi, va bene? La seconda cosa ragazzi ovviamente io sapendo che mancava l'energia elettrica da 20 giorni fa per questo cartello come il tuo prima è stato applicato 20 giorni fa, quindi già sapevo che 20 giorni fa sarebbe successo questo, mi sono organizzato ragazzi, ovviamente oggi è martedì 18 e il 17 ragazzi io mi sono caricato bene bene le batterie, infatti siamo a quasi 50 volt, stamattina avevo circa l'80% ancora di capacità e ragazzi io posso viaggiare tranquillo anche senza fotovoltaico fino anche a stasera e anzi anche a domani mattina perché queste batterie ragazzi sono allucinanti, sono fantastiche, posso andare tranquillamente anche a caricarmi l'auto elettrica ieri appunto mi sono caricato tutte e due le auto elettriche per avere l'autonomia perfetta per tutto il giorno, ragazzi questi sono piccoli accorgimenti che comunque bisogna diciamo adottare perché comunque adesso stiamo facendo poco, stiamo facendo ripeto circa 700-800 watt, ragazzi è poco e ovviamente se a noi serve adesso subito l'energia elettrica se non abbiamo un po' di riserva nelle batterie siamo fregati, siamo a terra, ok? e questo ovviamente è un problema, quindi io vi consiglio il giorno prima caricatevi al massimo le batterie, ok? magari se non riuscite col fotovoltaico caricatevi con Enel va bene comunque, ok? affrontate la notte ragazzi pronti, pronti belli carichi al 100%, non all'80%, è al 100%, l'indomani avete già le batterie super cariche quindi ragazzi siete a posto, non dovete fare nient'altro che ovviamente l'indomani, l'indomani per chi magari non è un impianto muscoloso come il mio, economizzare un po', io non ho problemi ragazzi, adesso addirittura stamattina come sono svegliato c'era anche l'aria condizionata, adesso incominceranno riscaldabagni ad accendersi perché si accendono automaticamente tutti e due, ovviamente in base alla produzione fotovoltaica, quindi ragazzi io sono super sereno, le batterie delle auto elettriche sono cariche, ok? complessivamente posso fare quasi 700 km di tutte e due le auto elettriche quindi non ho assolutamente problemi di mobilità, quindi ragazzi io sto affrontando questo giorno di ovviamente blackout in tutta sicurezza e in tutta tranquillità, l'impianto sta andando alla grande ragazzi, davvero io sono super soddisfatto ma soprattutto ragazzi sono super soddisfatto di queste batterie, come vedete oggi blackout ma non me ne frega niente perché queste batterie sono allucinanti, talmente sono allucinanti ragazzi guardate, ho staccato addirittura i bestioni, ok questi sono assolutamente staccati i negativi, ho attaccato il positivo perché ancora devo smantellare tutto perché ragazzi non mi servono più, non mi servono più, queste sono allucinanti, sono delle bestie allucinanti ragazzi per chi è interessato io come vi ho sempre detto lascio qua il link in descrizione con il mio codice sconto per acquistarle a un prezzo stracciato, sono batterie italiane NBA, non sono batterie cinesi, non sono batterie prese da Alibaba o Aliexpress dove ovviamente chissà cosa vi arriva ragazzi sono batterie di muletto, quindi sono batterie nate per la trazione elettrica, sono batterie italiane tranquilli ragazzi che non vi deluderanno mai, guardate le tensioni super perfette, anche qua ragazzi abbiamo AGM e gel da recupero sempre perfette ragazzi, l'importante come vi ho sempre detto non è tanto spendere per batterie che ripeto alla fine nemmeno vi servono nel fotovoltaico perché come vedete io sto andando sempre a combattere al piombo eppure sono sereno ma l'importante ragazzi è sapere cosa si fa, saper montare gli impianti, saper cablare gli impianti, saper adattare un componente ad un altro componente ragazzi è la cosa più giusta e semplice da fare quindi io consiglio sempre ragazzi per gli impianti fotovoltaici batterie al piombo da trazione, non hanno mai fine, non hanno assolutamente mai fine, va bene? niente ragazzi io penso di avervi detto tutto, qua siamo sempre ovviamente super operativi con la corrente, ragazzi il bello dell'impianto a isola è proprio questo l'impianto a isola guardate ve lo fate voi, spendete poco non dovete dare spiegazioni a nessuno il risparmio ragazzi è garantito e quando vi mancherà la rete elettrica come in questi casi avete la corrente, quindi lasciate perdere impianti on grid lasciate perdere impianti costosi, fatti col 110 questi bonus che bonus poi non sono ragazzi fatevi voi l'impianto, se non ci riuscite a farvi voi l'impianto chiamatelo un elettricista che riesca a fare un impianto del genere un impianto a isola, l'importante che sia a isola, isola, ibrido, insomma chiamatelo come volete va bene? guardate siamo ancora sempre senza corrente ragazzi eppure siamo sempre operativi, davvero fantastico, sicuramente sono l'unico del paese che ha la corrente e questa cosa mi fa solamente sorridere perché essendo essere l'unico del mio paese ad avere la corrente perché penso che altri non hanno questi impianti qua nel mio paese quindi mi fa sorridere perché alla fine ragazzi questi impianti a isola sono sempre stati, da sempre da anni e anni e anni perché comunque sono nati per le campagne o per i posti dove ovviamente non può essere raggiunta diciamo la linea elettrica di Enel quindi se ancora non capisco chi ha speso o chi spende 20.000 euro per farsi un impianto che addirittura quando manca l'Enel va in blocco, si ferma e seta al buio la famosa C021 vabbè ragazzi io vi saluto e mi raccomando come al solito vi ricordo l'iscrizione al canale cortesemente aiutatemi a crescere perché come vedete io faccio un video che interessano a tutti ciao e buona giornata